E siamo di nuovo su SuperTV, oggi mercoledì 23 gennaio, costruiremo un heavy complex fatto con tre ripetizioni di front squat e un jerk, a seguire tre round four time, 400 oppure 300 metri di row, 21 ball ball, 15 bar piece, pesi, scalature sulla grafica, come al solito, buona giornata, ci vediamo domani.